black pink black pink e bentornati ci siamo ci siamo ci siamo vi avevo già accennato qualcosa che non era detto che ci sarebbe stato un teaser black anche perché avevo visto che i tempi stringevano come vi ho anche accennato che probabilmente avremo dei giorni di niente quindi 17 18 mi sa che non esce niente come contenuti a livello di video a proposito di contenuti sulle black pink hanno annunciato le date delle vendite dei biglietti per le tappe di soul ho notato però qualcosa che non va mi raccomando non compratevi la membership prima di aver letto l'articolo di kpopnews.it perché ci sono dei dettagli fondamentali che finora non vi hanno mai detto non so se mi sento pronta vi rendete conto di che cos'è l'anteprima di questo video oh mio dio 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 black pink black pink sto per piangere allora calma molta calma come vi ho detto l'ultima volta si vedono delle parti dei set che ci saranno nel video c'è anche questa parte c'è anche questa parte di suoni un po' tradizionali coreani che allo stesso tempo sembrano un pochino medio orientali vediamo una micro anteprima di lisa questa credo che sia rosè con una rosa nera no è una mano nera con dentro una mela può essere una mela serpente può essere e tipo è nera quindi tipo il marcio la corruzione poi abbiamo jenny coperta fino al naso e questa è Gisù ragazzi cioè vi rendete conto che la nostra Gisù è diventata così cattiva cioè ha tipo un coso che l'aiuta a respirare forse perché ci sono delle nubi tossiche non lo so guardate anche sulle nocche si vedono tipo delle ferite e poi fine io come non però stavolta non hanno detto pink venom ma porto il dolore come e probabilmente la frase continuerà non l'hanno messa magari per non spoilerare troppo ma mio dio mio dio mio dio mio dio mio dio non mi aspettavo comunque una cosa del genere cioè scusate ma non ci posso credere ok 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 non lo riguarderò 300 volte oggi non preoccupatevi non succederà non è così lo sappiamo tutti che non lo riguarderò 300.000 volte oggi è tipo il loro video più cosplayoso mi sembra di capire finora ecco questi look ci saranno nel video questi look ci saranno che bello cioè vi rendete conto di cosa Gisù vi rendete conto di cosa sono tutte le altre Lisa non si capisce una mazza di come sarà sarà bellissima ovviamente in questa parte che si vede ha di nuovo la frangia e il colore dei capelli penso che sia quello che abbiamo visto non so se è di nuovo un più biondo o tipo non lo so non si capisce perché c'è questo filtro così arancione le parti nere dei capelli di rosè sono molto visibili anche molto visibile un qualcosa qua di glitter molto brillantino vicino all'occhio non ho idea di cioè ragazzi ma vi rendete conto di io le vedo già i VMA cioè le vedo già sul palco di MTV a spaccare tutto perché già questi outfit potrebbero essere incredibili ecco magari la mascherina Gisù se la leva per cantare però wow ragazzi di questi look visti finora ditemi qual è quello che vi ha più sorpresi io vabbè è anche quello che si vede di più e tra l'altro è la mia bias è assolutamente Gisù e aspettate per un attimo per un attimo dedichiamo un secondo di tempo per fare una cosa tutti insieme voi la farete dopo di me se mai tornate indietro nel video e fatela insieme a me ho bisogno di urlare ok mi sento meglio spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi manca davvero poco l'appuntamento come detto anche ieri su kpopnews.it sarà alle 5 del mattino insieme a loro nell'ora di live in attesa dell'uscita di Pink Venom sì il 19 alle 5 del mattino ci sarà anche una live delle Blackpink sul loro canale qua su YouTube credo che quella notte non dormirò e non so se riuscirò più ad addormentarmi dopo aver sentito Pink Venom perché secondo me avrò l'hype a mille che mi terrà sveglia spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video ciao